Io avrei in mente un'idea. Tenetevi ben saldi alla mia sciarpa. E Fulmine e io vi traineremo sulla cima della montagna. Perfetto! Tenetevi forti alla sciarpa! Vai, Fulmine! Che missione eccezionale! Salveremo Babbo Natale! Chi Natale salvo grazie a noi! Sì! Abbiamo raggiunto la cima della montagna del Vischio! Ottima sciata, ragazzi! Babbo Natale! Dove sei?